Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura il violento incidente il lunedì sera in Viede Nicola che ha coinvolto un giovane di 30 anni, tante le criticità che rendono pericolosa la circolazione in tutta la zona. Passiamo ora alla cronaca con l'operazione ad alto impatto dei carabinieri Fratore del Greco ed Ercolano, due sono stati gli arresti. E passiamo ora alla questione maresca con l'incontro che sarebbe dovuto avvenire con la regione Campania con alcuni consiglieri comunali e l'associazione Pro Maresca. L'incontro è stato annullato ai nostri microfoni, la polemica. In conclusione la misura del coprifuoco che da oggi è spostato dalle 22 alle 23. Abbiamo chiesto ai torresi cosa ne pensano delle riaperture e se ritengono valida la misura del coprifuoco. Questo è d'altro nei nostri servizi. Violento incidente lunedì sera a Torre del Greco. Proprio dietro di me, lungo via De Nicola, la strada che sale fin verso il Vesuvio. Due auto si sono scontrate coinvolgendo anche una moto. Grave, il conducente della moto, un ragazzo di soli 30 anni. Non è chiara ancora la dinamica dell'incidente. I carabinieri stanno ancora svolgendo le dovute indagini per capire le varie responsabilità e le varie inadempienze. Quello che è certo è che le due auto si sono scontrate violentemente all'altezza del Sakura, nella strada appunto dietro di me, coinvolgendo quindi il motociclista che è atterrato sull'asfalto. Questo però fa immergere le criticità dell'intera zona alta di Torre del Greco, soprattutto per quanto riguarda questo incrocio, che è da sempre un luogo altamente pericoloso per la circolazione. In particolare alla mia destra c'è via Benedetto Cozzolino, che ben sappiamo che è una strada già pericolosa ai suoi per l'alta percorribilità, soprattutto per la velocità lungo tutta la strada, che poi converge in questo incrocio con una scarsa visibilità. Sappiamo che salendo per via De Nicola è ben difficile vedere chi si sta immettendo dalla Benedetto Cozzolino e chi si sta immettendo invece da via Tironi, che è qui sulla sinistra. Alta criticità è la salita verso il Vesuvio. Anche qui, senza controlli, senza ulteriori modi per arginare, gli automobilisti tendono ad andare a fin troppa velocità, finendo poi per coinvolgersi in questi incidenti con veicoli che si mettono dalle varie traverse, specialmente quella più sopra e qui. Mancano dei dissuasori, mancano delle talpe segnaletiche, manca una qualunque forma di segnalazione volta a rallentare chi sta circolando o comunque a rendere maggiore la visibilità ed evitare i conseguenti pericoli. Oltretutto si aggiunge la pericolosità dello stesso manto stradale. In molti tratti il manto appare dissestato, più volte riabilitato tramite dei lavori stradali che però sembrano mettere soltanto una pezza. Anche qui c'erano numerose fosse, addirittura l'asfalto era collassato, finendo molto più in basso rispetto alla carreggiata, è stato ricoverto con ghiaia o materiale di facile rimozione. Infatti dopo poche settimane dai lavori appare ancora così dissestato. Serve quindi un intervento, come abbiamo detto, di segnaletica maggiore e soprattutto di controlli serrati per impedire che i comportamenti sbagliati degli automobilisti possano provocare disastri simili, come è successo lunedì sera. Continuano i controlli sul territorio da parte dei carabinieri tra Ercolano e Torre del Greco. Numerose le perquisizioni e di controlli a largo raggio. 91 le persone identificate e 35 veicoli controllati. Durante le operazioni, a finire in manette, in esecuzione ad un provvedimento messo dal Tribunale di Napoli, un 53enne del posto già noto alle forze dell'ordine. L'uomo dovrà rispondere dell'evasione avvenuta il 12 maggio scorso, mentre era sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione ad Ercolano. Denunciato per guida senza aver mai conseguito la patente, un trentenne di Ercolano. I carabinieri lo hanno fermato in via panoramica a bordo del suo scooter. Nel corso del controllo alla circolazione stradale, i militari hanno sequestrato anche due auto e segnalato alla prefettura un assuntore di sostanze stupefacenti. A Torre del Greco, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 29enne incensurato del posto. L'uomo, un marittimo, è stato fermato in via lamaria a bordo della sua auto. Durante il controllo, il 29enne mostrava sempre più momenti di insofferenza. Questo comportamento ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di approfondire il controllo. Perquisito, è stato trovato in possesso di 5 panetti di acisce 13 involucri contenenti la stessa sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 582 grammi. Rinvenuti e sequestrati anche vario materiale per il confezionamento della droga e la somma di 175 euro ritenuta a provento del reato. L'arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio. Ospedale Maresca, l'audizione in quinta commissione sanità è stata sconvocata. Senza alcuna spiegazione a meno di 24 ore dall'incontro, la Regione ha annullato l'appuntamento precedentemente fissato per domani alle 15.30 in modalità telematica, a data da destinarsi. All'ordine del giorno lo stato dei lavori, l'organizzazione dei servizi al presidio ospedaliero di Torre del Greco. Cresce la rabbia dei consiglieri comunali di opposizione negli attivisti dell'associazione Pro Maresca che nel mese di marzo avevano fortemente voluto un consiglio comunale monotematico sul caso dell'ospedale torrese. I cittadini continuano tutt'oggi a non essere ascoltati. Ricordiamo che il pronto soccorso del Maresca ad ottobre è stato chiuso. Ci sono le catene. Quindi questa è una condizione insopportabile e non è legittima in quanto questo va contro il diritto della salute dei cittadini di Torre del Greco. Infatti io ho annunciato oggi anche sulla stampa, a mezzo stampa, di segnalare al sindaco, ancora una volta al dottor Giovanni Palomma, di intervenire su questa questione perché il sindaco, lui come responsabile, primo cittadino di Torre del Greco ed è lui responsabile della salute di tutti noi torresi e anche come presidente della conferenza dei sindaci dell'Asnavoli 3 Sud, lui ha il dovere di imporsi, di controllare ciò che sta succedendo all'ospedale Maresca per cui noi vogliamo capire quando ci sarà una nuova convocazione. non abbiamo avuto né una motivazione scritta né una data certa per cui noi veramente siamo molto ma molto arrabbiati. Noi adesso ovviamente saremo sul fiato sul collo alla regione perché vogliamo andare in regione e avere delle risposte sia dalla regione Campania, quindi dalla quinta commissione, sia dal direttore dell'Asnavoli 3 Sud. Ancora una volta la regione Campania chiude le porte alla città di Torre del Greco. La regione chiude le porte all'ospedale Maresca ed è un mistero, un ospedale che ha una storia gloriosa, limpida, pulita, una storia eccellente, deve essere trattato come un bandito, come un clandestino, non si può nominare. E oggi addirittura esiste la parola sconvocazione dell'audizione. Ma per quale motivo io vorrei sapere? L'ospedale Maresca fa venire la febbre, i brividi a chi deve parlarne. Chiediamo al dottore Sosto un incontro e il povero sindaco con il consigliere D'Ambrosio che è delegato all'ospedale sa da un mese e non riesce ad ottenere un incontro col direttore Sosto. Ma perché? Fatecelo capire, noi non abbiamo nulla da temere da questi incontri. Noi siamo semplicemente dei cittadini attenti alla salute propria dei propri cari e se consentite anche dei propri amici di tutta la cittadinanza. L'associazione Maresca viene vista come una rottura di scatole. Noi non siamo una rottura di scatole, noi vogliamo aiutare, cooperare, interfacciarci per mantenere un presidio necessario come l'acqua. E noi stiamo dismettendo un ospedale funzionante con una capienza di 250 posti letto. Ma di cosa parliamo? Cos'è che non va? È un mistero che vorremmo tanto si chiarisse per il bene di tutta la Napoli 3 Sud. I cittadini torresi hanno bisogno di un ospedale attrezzato che garantisca loro i servizi di base e forniscono loro sicurezza sociale oltre che a limitare la migrazione sanitaria che costa molto sia alle famiglie, soprattutto alle famiglie, che anche alla nostra Astra Napoli 3 Sud. Ricordo che a gennaio del 2020 il presidente De Luca in visita all'ospedale Manisca aveva dichiarato che sarebbero stati stanziati 6 milioni di euro per restyling e per il rilancio del nostro ospedale. Tutt'oggi non sono proprio iniziati i lavori e a dire la verità non siamo neanche in possesso di un crono programma dei lavori da effettuare. Volevo solo capire il perché di tutto questo. Qualsiasi cosa che noi facciamo, qualsiasi cosa denunciamo viene sempre tutto archiviato oppure non ci ascoltano. Sicuramente forse diamo troppo fastidio. Da mesi ormai il pronto soccorso è stato disattivato per la gestione dell'emergenza pandemica ma non dimentichiamo che secondo il piano regionale e poi quello successivo aziendale sono previsti posti letto, discipline e reparti a Torre del Greco. Sì ma ancora tuttora non si vede niente al Maresca. Qui si muore signori, veramente si muore. Gente che muore di infarto in casa con un pronto soccorso che abbiamo e con dei dottori che avevamo l'hanno trasferito in altri ospedali. Cioè veramente non si vive più così. Vogliamo verità, vogliamo capire questa patata bollente chi è che ce l'ha in mano. Ringrazio TV City perché dà voce a noi che purtroppo non ne abbiamo più nel senso che parliamo in consiglio comunale, chiediamo delle cose ma non arriva a destinazione. Quindi grazie alla vostra emittente televisiva questo si può fare. Chiaro è che è singolare che una città che ha un consigliere regionale con 28.000 voti quindi ha raccolto in città circa 4.000 preferenze non dedica un minimo di attenzione alla nostra città, al nostro nosocomio. Si dovrebbero vergognare chi oggi assurge il ruolo di rappresentante sovraordinato al Comune di Torre del Greco perché sappiamo bene che oltre alla conferenza dei sindaci il sindaco non può fare. Adesso non voglio scagionare il sindaco di Torre che ne ha responsabilità ma certamente chi assurge a ruoli sovraordinati di consigliere regionale si dovrebbe vergognare. Oggi il coprifuoco si sposta dalle 22 alle 23. Per il 21 giugno, stando al nuovo decreto pubblicato ieri dal governo, tale misura verrà totalmente rimossa. Abbiamo chiesto ai torresi cosa ne pensano di questa apertura e se ritengono valido il coprifuoco nel contenimento dei contagi. Mi sembra giusto che andiamo incontro all'estate e quindi mi sembra giusto che anche i ragazzi possano utilizzare i servizi così si dà più opportunità ai bar e ai ristoranti di poter rimanere aperti e ingraniamo di nuovo la marcia per una sana e buona economia. Che ne pensa del coprifuoco? Che ne penso del coprifuoco? È una norma che serve per salvaguardare le persone. Quindi non va rimosso? No, se è il momento di rimuoverlo ben venga. Il coprifuoco non si toglierà mai perché devono vendere ancora le mascherine, devono vendere ancora le vaccinazioni, un giro di miliardo di lire. Un po' no perché si sa la gioventù com'è e quindi è meglio riservarci un po' ancora per un po'. E a Torre del Greco i giovani non stanno rispettando le regole? Io questo non lo so dire perché sinceramente già dalle 6 sto a casa quindi non so la sera cosa sta succedendo a Torre del Greco. Diciamo che siamo stati chiusi per molto tempo quindi magari quest'estate noi che siamo in dolce attesa, un po' di mare c'è bisogno anche per noi, però ovviamente non troppi assemblamenti che poi sono la prima che non esco di casa. Quindi già posticiparlo alle 11 per voi va bene? Magari sì. Sì, magari sì. State uscendo in questo periodo? Solo di mattina per vedere qualcosa per i bambini e poi un sabato io vado a mangiare una pizza tranquilla e basta, poi ritiro. È una misura che bisogna ancora tenere attiva, ma stiamo guardando un po' la luce in fondo al tunnel. 21 giugno dovrebbero toglierlo però. E quella è la luce, incrociando le dita è la luce in fondo al tunnel. Grazie per la cortesia attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484. E con questo è veramente tutto, io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi. Grazie a tutti.